Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo, con una combinazione di elementi come il ritorno al luogo dell'infanzia, la scoperta di indizi e la ricerca della verità. Inoltre la storia offre anche la possibilità di esplorare temi emotivi legati alla perdita, alla memoria e al desiderio di comprendere eventi passati. La trama del libro La ninna nanna degli alberi della scrittrice Alice Bassoli, casa editrice Corbaccio, è la seguente. Dicembre 2018. Isabella non aveva più messo piede in quel luogo, in quel paese immerso nei boschi dell'Appennino Tosco Emiliano, nella casa della zia dove andava appena iniziavano le vacanze. Dove andavano, lei e la gemella Valeria. Lì trascorrevano l'estate insieme ai ragazzi del posto facendo bagni nel torrente, chiacchierando in piazza, scambiandosi i primi baci per sentirsi adulti. Esplorando una villa diroccata per vincere la noia. E tanto meglio se quella villa faceva paura perché di notte si vedevano delle luci, si sentivano dei rumori strani. Ma una sera di luglio di vent'anni prima Valeria non è tornata a casa della zia. Valeria è scomparsa, svanita nel nulla, lasciando solo domande senza risposta. Da vent'anni Isabella vive dimezzata. Col tempo ha cercato di avere un'esistenza normale. Ha un ex marito e una figlia. Ha costruito dei muri per separarsi dai ricordi e dalle persone di allora e non li ha più oltrepassati. Fino alla morte di zia Adele, che le ha lasciato in eredità la casa e nella casa un indizio. Isabella sa che a questo punto non potrà fare altro che raccoglierlo, per lasciarsi travolgere dal passato e nel passato cercare quella verità che per vent'anni le era sfuggita. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.